mi piace mi piacciono molto più i fatti i fatti delle parole io ho sentito in questo periodo chi ha voglia ha sicuramente modo di aggiornarsi in tantissime situazioni ci sono tantissimi allenatori che parlano io ho cercato di sentirne più possibile e sono stati tutti bravi voglio dire perché si sente una lezione perché si sente un meeting una chiacchierata o qualcosa si può sentire per tre cose per imparare per avere conferme in quello che si fa o per curiosità perché magari una persona non la conoscevo e la voglio sentire parlare io ho sentito parlare tanta gente che non conoscevo conoscevo solo così e mi hanno fatto una buonissima impressione veramente buona impressione ho seguito e sto seguendo anche dei meeting di allenatori americani e ho notato una differenza gli allenatori italiani parlano quasi tutti di tecnica o di tattica gli allenatori americani parlano quasi tutti di filosofia perché per loro l'aspetto mentale è nettamente superiore a tutto il resto io siccome non sono un grande esperto di computer e siccome per i ragazzi che alleno quest'anno ho allenato under 13 e under 14 quindi non è che mi posso mettere a fare chissà quale tattica ho cercato di buttare giù alcuni punti che possono servire agli allenatori ma non solamente allenatori secondo me possono servire a un direttore d'azienda a un manager a un preside a chiunque intanto per capire come siamo e per capire chi ci circonda perché secondo me è importante io sono un allenatore di settore giovanile ho un responsabile devo capire se lì ho possibilità di crescere o no o se arriverò solo a un certo punto e poi più di lì non posso andare quindi poi parleremo anche un attimo diciamo del confronto che dobbiamo avere con i genitori parleremo di una programmazione settimanale per esempio quella che abbiamo fatto noi quest'anno che forse ci può essere qualche spunto interessante ma vorrei partire con come fa un allenatore a ispirarsi a migliorare va bene se qualcuno di voi ha visto il film Invictus c'è praticamente Nelson Mandela che dice che ci si ispira attraverso il lavoro di altri ecco questa frase fotografa bene perché quando uno è in difficoltà quando uno non sa come risolvere un problema a chi chiede aiuto chiede aiuto a chi si è trovato in quella situazione lì e magari se la risolta se la risolta anche bene è anche meglio quindi faccio un esempio l'ispirazione vi cito alcuni personaggi famosi non solamente di basket per esempio Picasso diceva quando l'ispirazione arriverà mi troverà dipingendo cioè non mi trova a letto o al bar io se voglio ispirarmi in qualcosa devo pensare a quella cosa lì proprio ieri sulla gazzetta dello sport c'era un guardiola che diceva che quando lui riguarda le partite da solo c'è un momento in cui lui capisce come farà vincere la partita dura pochissimo meno di un minuto ma è lì che arriva l'ispirazione arriva mentre lui pensa a quella situazione lì l'ultimo clinic che ha fatto Greg Popovich mi sembra a Las Vegas a gennaio qualcosa del genere gli hanno chiesto gli hanno chiesto ha parlato di allenatori e ha detto secondo me un allenatore la prima domanda si deve fare chi sono in grado di allenare chi posso allenare posso allenare tutti posso allenare solo gli esperti i giocatori esperti posso allenare solo i piccoli chi posso allenare questo è molto importante la seconda cosa è cosa sono in grado di insegnare bene cosa posso veramente insegnare bene perché un conto è informare e un conto è insegnare informare io sono una cosa in generale e la dico insegnare è quando una cosa l'ho fatta mia l'ho processata fa parte del mio linguaggio fa parte della mia cultura so di che si tratta posso entrare nei dettagli quindi questa è la seconda cosa poi viene come la voglio insegnare come io riesco a trasferire agli altri questa cosa posso trasferire tutto o sono in grado di trasferire solo in parti e l'ultima cosa che ha detto Popovic di chi mi voglio circondare che persone voglio vicino a me e poi entraremo bene in questo capitolo per capire chi siamo noi e chi ci circonda un altro grande allenatore se voi avete visto Last Dance su Chicago Bulls c'è Phil Jackson a un certo punto dice quando ho un dubbio spesso non faccio niente dice quando ho un dubbio a volte mi siedo e penso a volte solo mi siedo cioè se non ho la soluzione non faccio non faccio niente non vado a mettere danno su danno e dice anche che tutto deve partire dal giocatore ma anche allenatore da dentro a fuori cioè si parte dal cuore e si va al cervello non è che si parte dal cervello e si va al cuore una bellissima frase che era dentro lo spogliatore del Barcellona io ho attaccato alla stanza allenatore a Rizzo una bellissima frase di Luis Enriquez al Barcellona Calcio quando vinsero il triplete così c'era scritto tu puoi avere risultati o scuse non entrambi non si può pensare se non si vince di trovare una scusa quindi o risultati o scuse ti devi mettere d'accordo un'altra cosa che mi ha fatto molto pensare è una che ho sentito dire a Svetlisvald Pesic e lui dice che un solo giocatore non può fare una squadra ma magari un solo giocatore può distruggere una squadra e dice anche che un solo giocatore in attacco in un determinato momento a partita tiene sulla squadra da solo ma nessun giocatore da solo può tenersi sulla squadra in difesa io credo che queste sono cose importanti che un allenatore deve pensare deve avere Doc Rivers allenatore dei Clippers lui dice il mio compito come allenatore qual è? Primo far diventare un gruppo di individui una squadra secondo far diventare quella squadra una squadra da titolo quindi un processo di crescita un processo di miglioramento Andrea Trinchieri in questo momento ho sentito una marea di volte la cosa che mi ha colpito di più ha detto al Partizan Belgrado hanno un libro molto grande dove c'è scritto quello che si può è quello che non si può fare cioè un libro che crea cultura Belasco diceva la cultura è tutto quello che rimane quando non c'è più informazione perché anche noi nel nostro piccolo non si può pensare non ci si può mettere lì vedere se si può trovare qualcosa di questo genere che fa migliorare noi fa migliorare la nostra organizzazione la nostra struttura i nostri ragazzi un'altra cosa ho sentito dire a Marco Sanguettoli che io condivido al 100% è quello che dicevo uno ascolta anche per trovare confermi Marco Sanguetto dice in un settore giovanile un giocatore dovrebbe cambiare almeno tre allenatori cioè non si può tenere più di due o tre anni in un allenatore per una squadra perché lui non dà più niente a ragazzi e il ragazzo avviene la sua fazione Steve Kerr un'altra cosa io ho sempre pensato alla fine di un allenamento l'allenatore dovrebbe essere estremato dal punto di vista fisico e mentale ecco quando io ho iniziato ad allenare io potevo allenare anche cinque squadre di fila partivo alle due finivo alle otto di continuo ma davo 50% 40% 60% adesso io non posso fare due allenamenti di fila io devo avere come minimo un break tra un allenamento e un altro se voglio dare il 100% se voglio partecipare emotivamente fisicamente io ho un idolo nella palacanestro Eubradovic quindi quando lui parla io mi metto a ascoltare e prendo appunti di tutto di quello che dice gli hanno chiesto che cos'è il grande giocatore tanto per farsi un'idea di cosa pensano i top allenatori lui ha detto la prima dose che deve avere un grande giocatore è la resistenza al dolore quanto resiste al dolore quanto va oltre quanto è capace di giocare con il dolore quindi non ha detto la tecnica deve essere quanto va sopra la seconda cosa è che deve avere un grande giocatore che deve giocare benissimo sempre tutte le partite non può giocare bene quasi tutte le partite il grande giocatore deve giocare benissimo sempre per il benissimo non si intende sempre cioè solamente fare che ne so 50 punti così ma deve essere sempre lì con la squadra deve avere una grande durezza mentale una grande intelligenza tacestistica lui diceva per esempio di Amantidis gli si faceva vedere un video una volta e non c'era bisogno di dirlo niente lui sapeva da sé per chi mi hanno detto Lebron James è un altro in questo modo qua e poi ha detto Bradovic grandi allenatori grandi giocatori spesso si incontrano perché chiaramente i grandi allenatori allenano volentieri i grandi giocatori ma soprattutto i grandi giocatori ci sono volentieri per i grandi allenatori quindi se noi si vuole allenare grandi giocatori o comunque i più grandi per quello che possiamo fare dobbiamo migliorare dobbiamo in qualche modo salire di livello anche noi ok adesso io vi faccio l'allenatore è un capo va bene? l'allenatore è un capo anche ripeto un preside un direttore di azienda adesso io vi faccio i tre esempi classici dove primo bisogna capire chi siamo che tipo di capo siamo noi e secondo da chi siamo contornati allora il primo è il finto capo il finto capo è quello che è in un posto non per merito è in un posto perché c'ha un'amicizia è in un posto perché è manovrabile è in un posto perché almeno rende dei favori è in un posto perché è un raccomandato il finto capo usa il fine non il mezzo si contorna di yes man si contorna di persone non li fanno ombra si contorna di persone poco capaci se in quell'organizzazione c'è una persona capace lo metterà la metterà in cattiva luce cercherà di immaginarla cercherà di isolarla il finto capo rifiuta i confronti sfugge il finto capo vizia il giocatore di talento perché se lo vuole fare amico mentre cazza l'ultimo giocatore il finto capo non lancia giovani non rischia non gli interessa i suoi collaboratori non potranno mai crescere in una situazione del genere perché lui non le trova soluzioni le crea e quando va via il finto capo lascia macerie quindi voi domandatevi mai se siete siete arrivati in una società avete trovato zero se avete siete stati con qualcuno prima di tutto se siete voi così seconda cosa se chi è vicino a voi è così perché se chi è vicino a voi è così voi non ci dovete stare lì perché voi non crescerete mai viene stimato che io parlo nello sport italiano quindi non solo nel basket in tutti gli altri sport i finti capi siano dal 15 al 25% poi c'è il capo leader il capo leader è stimato che nello sport ripeto in tutti gli sport sia dal 55 al 75% per il capo leader il potere non è un fine va bene cerca di coinvolgere tutti ha un buon metodo ha un buon programma di lavoro e crede in quello che fa si circonda di collaboratori affidabili cerca di farli crescere li stimola è coerente con le scelte che fa cerca di rimanere sempre se stesso cerca di risolvere tutti i problemi che può rinuncia a qualcosa per gli altri costruisce qualcosa quando va via ha lasciato una base e poi c'è l'ultimo che è il capo carismatico il capo carismatico ha tutte le caratteristiche del capo leader ma ce ne ha altre molto particolari primo di tutto è in grado di far comprare le persone cose che non pensavano mai di fare è uno che ha idee innovative che faranno scuola che rimarranno nel tempo ha capacità di mettersi nei panni degli altri e di capire subito dov'è il problema capire subito lancia i giovani nel rispetto dei veterani e crea giocatori che poi diventeranno allenatori fa crescere tutto l'ambiente rispetto alle persone più umili che girano intorno alla società è reclusa i collaboratori attraverso due rispetto o il merito o le capacità faccio un esempio se io sono un capo allenatore oppure diciamo se io sono responsabile del settore giovanile io ho possibilità di prendere due allenatori però io sono scarso nella tattica io posso prendere se sono un finto capo uno è scarso nella tattica così non mi mette in difficoltà ma se sono un capo carismatico io prenderò uno che mi colma quella lacuna perché migliora l'organizzazione e migliora anche me questa la differenza cioè i capi allenatori secondo me dovrebbero prendere gli assistenti bravissimi più bravi sono e meglio è i responsabili del settore giovanile dovrebbero prendere gli allenatori più bravi ma questo non succede mai o quasi mai perché spesso non si vogliano ombre perché c'è paura c'è il paura del confronto un'altra cosa importante del capo carismatico è che vince ovunque va vince ovunque va non significa che ovunque va vince lo scudetto ma significa che ovunque va ottiene dei risultati che in quel club nessuno aveva mai fatto fa fare a quel club un salto di qualità anche culturale che nessuno aveva mai fatto questa è un'altra caratteristica caratteristica e quando se ne va lascia un modello un sistema di lavoro un'organizzazione che se viene eseguita porta ancora nel tempo quel club a salire o comunque a rimanere a un certo livello ecco queste sono diciamo le tre categorie io devo dire io alleno dal 1981 prossimo anno faccio 40 anni che alleno non visti di tutti i tipi cioè io non faccio nome ma potrei fare tantissimi nomi di capi carismatici finti capi capi litri credo ognuno di voi che se pensa si ritrova in queste situazioni avrà qualche cosa vi dico anche ho sentito un meeting di Maurizio Gherardini dove lui dice che quando lui va a scegliere un allenatore per il suo club che sia NBA i Neurolega e così lui dice quello che cerca e che lo sia importante sapere sapere anche noi no perché penso che ognuno abbia ambizioni di cercare di andare ad allenare il più in alto possibile e che i top manager che cercano un allenatore la prima cosa ha detto Gherardini che cercano un allenatore è quanto sa comunicare e quanto è incline al dialogo cioè io voglio prendere uno con cui sono scambi di idee si parla questa è la prima cosa la comunicazione il dialogo la seconda cosa è quanto quell'allenatore sa calarsi nella reale situazione del club cioè se un club ha dei problemi lui ci deve entrare dentro deve capire deve capire fino a quando fino a dove per il club possa spingersi oppure no poi ha detto la terza cosa che cerco è capire la sua filosofia in base alla squadra che è andata ad allenare che idea vuol cambiare tutti i giocatori vuol valorizzare qualche giocatore che non è stato valorizzato e poi l'ultima cosa quanto è creativo e per creativo lui dice quanto è in grado o di sorprendere l'avversario durante un piano partita o di cambiare la partita in panchina perché lui ha detto io conosco allenatori bravissimi che però finché la partita va a quel modo bene ma se cambia la partita loro ci mettono a 10 secondo Gerardini i due più bravi in Europa a far questo sono Obradovic e Yazikevicius secondo Gerardini e poi sempre quanto ha capacità di non scaricare le colpe sugli altri cioè quanto sa assumersi le sue responsabilità se non ci sono domande vado avanti fai pure non ci sono domande però ora puoi andare tranquilli perfetto allora alcune cose che secondo me ci possono dare una mano noi come allenatori quando ci si prepara perché bisogna prepararsi prima questo è l'allenare se stessi prepararsi prima abbiamo detto che il metodo didattico è capire che cosa che cosa so e cosa non so capire come quello che solo posso trasferire e come e come io lo voglio insegnare allora le americane hanno un detto molto molto bello cioè non prepararsi e prepararsi a fallire quindi bisogna prepararsi allora durante una stagione noi bisogna capire ci sono diversi momenti c'è un momento magari in su stagione in cui il fattore atletico conta molto c'è un momento in cui conta la tattica ma c'è anche un momento in cui contano i rapporti umani i rapporti personali perché a volte certe situazioni non si risolvono con uno schema nuovo o con una difesa nuova certe situazioni si risolvono parlando confrontandosi si ritorna il discorso dei gradini la prima cosa in un allenatore top la comunicazione un'altra cosa importante è credo che non sia giusto dire che in una squadra siamo tutti uguali soprattutto anche a livello giovanile viene detto che siamo tutti uguali poi quando uno va in prima squadra pensa adesso essere tutti uguali porta la mediocrità quindi se uno gioca bene e uno gioca male e si perde non è che si è perso tutti insieme no uno ha giocato bene uno ha giocato male e quello che ha giocato male bisogna si domandi perché e cerchi di giocare bene se vuoi giocare di più quindi non è un problema giocare male è un problema giocare male tutte le partite cioè non si possono avere più partite negative di seguito questo non si può fare perché se no e questa è una cosa a far capire anche ai genitori poi ci si tornerà nel nel discorso ai genitori noi abbiamo influiamo poco sul talento individuale nel senso che se in paressa il talento individuale non ce l'abbiamo influiamo poco però io credo che un allenatore può influire sul talento di squadra che cos'è il talento di squadra? il talento di squadra è l'organizzazione è il senso di emergenza che i giocatori devono avere tra di loro le regole le poche e chiare regole che una squadra un gruppo decide 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 di attuare ricordatevi una cosa c'è si sente dire tante volte dobbiamo fare squadra ma dobbiamo fare squadra è una cosa teorica facciamo squadra una cosa pratica facciamo squadra una cosa pratica sento adesso in questo brutto periodo no? sento andrà tutto bene andrà tutto bene un accidente facciamo andare tutto bene quando si va fuori stiamo attenti rispettiamo le regole facciamo andare tutto bene andrà tutto bene significa io esco a caso e vo' a giro no io devo stare attento quindi dobbiamo fare squadra dobbiamo giocare di squadra no facciamo squadra giochiamo di squadra e chi le decide queste cose decide l'allenatore insieme insieme ai giocatori perché un'altra cosa io ci ho messo tanto tempo a capire è che lo sport non forma il carattere i ragazzi prima si fa sport almeno no lo sport non forma il carattere lo sport lo rivela il carattere se uno è un leone fa vedere che è un leone se uno è uno che si tira indietro si vede e si tira indietro quindi questo è è una cosa allora per far sì che uno non si tiri indietro dobbiamo cercare di migliorargli la propria autostima ma come si migliora la propria autostima l'autostima si migliora prima di tutto imparando una cosa che non sapevo quindi io devo mettere degli obiettivi che lui raggiunga allora sono capace ma la cosa che accresce di più l'autostima sapete qual è è ribaltare un pronostico negativo se io con una squadra ci ho sempre perso ci vinco state tranquilli che l'autostima aumenta al 100% come si come si ribalta come si ribalta un risultato negativo prima bisogna far capire ai ragazzi che dipende dalla propria volontà che nessuno può far sentire nessuno inferiore se lui non è d'accordo bisogna lavorare sulla testa dei ragazzi bisogna dargli anche delle ancore nel senso che hanno lavorato bene in palestra che sono preparati che hanno fatto alcune cose poi un'altra cosa che ho capito in ritardo è che se te quante volte penso sia capitata a tutti con quelli ci si perde sempre come se entra in quella palestra se la fanno sotto perché ci si è sempre perso perché tante cose volete cambiare questa situazione è più facile di quello che sembra fate giocare chi con quella squadra non ci ha mai perso e fu un esempio io con i nostri 2002 che tra l'altro erano anche una buona squadra anche però si è fatta una finale nazionale abbastanza con il grappa con Montevarchi perdevano sempre perdevano sempre io feci giocare 7-2003 con Montevarchi non ci avevamo perso era stata fortuna però questi non ci avevamo perso andarono dentro come leoni e vissero quindi qualche volta date responsabilità a un giocatore che in quella situazione l'ha mai vissuta perché entra e non ci pensa insegniamo sempre a ragazzi che se trovano un muro davanti l'unica cosa che non devono fare è tornare indietro c'è chi il muro lo butta giù a spallate chi lo salta chi scava sotto chi la gira chi lo scala ma non si deve andare indietro perché sono le difficoltà che fanno crescere chi non ha difficoltà che cresce se uno ha tutto ha tutto scodellato un'altra cosa si sente sempre dire che bisogna crescere la leadership no? e questo è importante io nel 1889 ho sentito in un clinic di Jim Calun di Connecticut a Montecatini che lui disse nella sua squadra lui voleva i leader ma se non poteva se non poteva avere tutti i leader andavano bene anche i seguaci cioè quelli che aiutavano i leader però non voleva gli ostacoli perché gli ostacoli sono quelli che poi rovinano la squadra si ritorna al discorso dei pesici un solo giocatore può rovinare una squadra allora come si fa anche a crescere la leadership per i ragazzi secondo me anche facendoli fare il capitano per esempio nei ragazzi piccoli diciamo fino al anno del 14 compreso un mini basket facciamo il capitano mensile o capitani mensili ogni mese ci sono due capitani così se ci sarà 20 ragazzi fanno tutti il capitano almeno una volta quando sono più grandi invece bisogna far capire alla squadra come si sceglie un capitano io prima dicevo sempre fate scegliete voi no poi io do dei nomi scegliete voi tra questi perché ci vuole o uno che parla o uno che guida con l'esempio non c'è verso o uno che c'è al cuore e guida con l'esempio o uno che parla o tutte e due se uno ha la fortuna se uno ha la fortuna di averli tutte e due un'altra cosa che mi è capitata lo scorso anno abbiamo perso una partita di 100 punti purtroppo io quando si dice le combinazioni in quella partita lì non c'ero perché altrimenti avrei detto qualcosa all'allenatore avversario perché avevo veramente un impegno c'era un mio assistente e questi diciamo gli altri erano nettamente più forti però se ci pensate al ritorno si perse di 32 in trasferta quindi secondo me esagerarono perché nel momento in cui te fai giù a tutti anche quelli piccinini hanno iniziato ora perché tanto la partita è persa quindi continui a prestare a tutto campo una storia in alta insomma vabbè e lasciamo perdere allora però io avevo il problema come fare accettare questa è la successa al sabato il lunedì che gli dico a questi ragazzi perché la cosa principale è che per me è che non perdono fiducia che quegli altri sono più bravi lo sanno da sé quindi io volevo un qualcosa che colpisse allora ci pensai due giorni poi il lunedì invece dell'allenamento organizzammo una merenda lì noi abbiamo un bar lì a Arezzo ci facciamo fare una merenda ci si messe tutti a tavola perché io volevo che si ricordassero questa cosa questa cosa non va dimenticata ma no per vendetta perché la vendetta non va bene anche lì c'è un detto molto bello americano se prepari una vendetta scava due tombe una per chi ci vuoi mettere e una per te perché dopo non sarà più uguale quindi la vendetta non va bene allora io fissai dei punti si scrisse dei fogli e si è detto ragazzi il primo è successo quindi bisogna accettarlo non è che si può cercare però la sconfitta è nella gara non è nella vita non è che quelli vanno battuti o a scuola sono più bravi di voi sono figli meglio di voi o così in questo momento sono più bravi di voi a basket ma nella vita no bisogna metterci le mani dentro magari magari si può si può impegnarsi un po' di più magari si può cercare di arrivare puntuali magari si può cercare di avere un approccio diverso si può cercare di non mollare si può cercare di resistere ci si riposa e si riparte cioè ritorno al discorso che vi ho detto che diceva Phil Jackson quando ho dei dubbi non faccio niente siccome io non sapevo come fare non fece allenamento quel giorno quindi bisogna riposarsi un attimo e ricaricarci e ripartire e poi bisogna bisogna mettersi lì e bisogna bisogna darsi da fare perché perché chiaramente una cosa che è importante che bisogna cercare di essere preparati non essere fortunati perché la fortuna non si sa dove va ecco quindi anche da queste cose bisogna cercare di imparare di tirar fuori qualcosa nella squadra in tutte le squadre ma anche in quelle più piccole l'importanza delle gerarchie perché noi bisogna mettersi d'accordo qui soprattutto la cosa evidente è quando un giovane va in prima squadra però in generale cioè se un giovane va in prima squadra e quel giovane si impegna è attento dimostra di essere anche più bravo di uno più anziano quel giovane gioca o gioca sempre quello più anziano perché questa non si va chiarita prima e la deve chiarire l'allenatore cioè uno si allena e si prepara per il prossimo anno oppure posso giocare anche quest'anno perché secondo me la maggior parte dei ragazzi vanno in prima squadra questa cosa non gli viene spiegata vanno in prima squadra e non si sa perché guarda io vengo io ti porto qui perché voglio che vedi come funziona perché il prossimo anno io punto su di te ma se un ragazzo viene lì fai 20 minuti poi gli fanno fare il segnapunti poi porta l'acqua secondo voi può tornare allenarsi per una squadra motivato motivato io penso che sia molto difficile no? ecco quindi questa è un'altra cosa importante se si subisce una sconfitta la prima cosa io mi devo chiedere io allenatore dove ho sbagliato la seconda è quale soluzione avrei potuto adottare e la terza posso rimediare cioè è l'ultima la finale scudetto o c'è possibilità o c'è possibilità di rimediare perché perché se perché se non è la finale scudetto io posso aprire la possibilità di rimediare un'altra cosa secondo me la qualità più importante di un assistente allenatore a tutti i livelli di un assistente allenatore la qualità più importante deve avere un assistente allenatore è la capacità di non farsi condizionare dal clima che instaura il capo allenatore io non ho avuto tante esperienze diciamo di assistente allenatore però l'ho avuta con due soldi opposti Dato Lombardi e Valerio Bianchini due allenatori eccezionali due allenatori completamente diversi con filosofie diverse Dato Lombardi se le cose andavano tutte bene doveva creare qualcosa per mettere ansia cioè mettere stress Valerio Bianchini non metteva stress nemmeno quando le cose andavano male ma si torna a un discorso ecco il vice allenatore non si può far condizionare cioè se l'allenatore impaurisce l'ambiente il vice allenatore disimpaurisce oppure se il capo allenatore si dice così ma poi le partite per il vice allenatore non può pensare quindi è fondamentale di non farsi influenzare dal clima che viene creato questa è una cosa importantissima per uno che vuole fare il vice allenatore per quanto riguarda capitolo brevissimo sui genitori allora io vi dico subito che a meno che uno non abbia una società di altissimo livello ha bisogno di genitori quindi noi fa tante storie i genitori pagano le vuote pagano tornei portano i ragazzi in trasferta spesso pagano quindi non si può pensare di volere e non dare quindi i genitori allora se io devo avere un rapporto con i genitori tanto voglio essere il migliore possibile quindi me li devo portare dalla mia parte io voglio i genitori abbiano fiducia a quello che dico me li devo portare dalla mia parte sapete come si fa portare i genitori dalla propria parte rompendo la distanza rompendo la distanza a giocatore allenatore un po' di anni fa ho letto un libro di Morgan Butten poi fortunatamente ho avuto anche i DVD della De Matta High School un grandissimo forse più grande di High School dove lui faceva gli allenamenti per i genitori e allora io ho preso nel mio piccolo spunto come si dice ci si ispira attraverso il lavoro di altri e io faccio delle riunioni ai genitori tre sono fisse poi se c'è bisogno si fa anche una straordinaria inizio anno dove spiego il programma cioè se a inizio anno faccio un esempio la squadra del 2002 io voglio portare dentro due 2003 o tre falli giocare io glielo dico gli dico guardate quest'anno sarà così no che all'improvviso faccio smetto di far giocare due e non gioano più e faccio giocare e poi viene fuori le polemiche io spiego io spiego anche che nessun genitore rovinirà il suo figlio davanti a me se vogliono rovinare il figliolo non lo fanno davanti a me vi devo spiegare quello che è bene per il figliolo cioè se il figliolo cresce con un carattere diverso da parte rispetto al genitore significa che il genitore ha rispettato la personalità del ragazzo il genitore deve essere stimato non temuto il troppo buonismo verso il ragazzo non aiuta siamo qui tutti perché vogliono bene il ragazzo però non a parole con i fatti quindi è chiaro che la scuola viene prima della pallacanestro ma bisogna fare anche qualche sacrificio per programmare la scuola in base cioè faccio un esempio negli Stati Uniti scuola e pallacanestro non sono mai in conflitto si integrano cioè da noi non c'è modo di trovare allora noi nelle nostre società dobbiamo prevedere questo e fare in modo che il programma scolastico il programma di basket cerchino di integrarsi il più possibile e non vadano e non vadano in conflitto poi facciamo una riunione di storico verso fine gennaio dove parliamo ancora di quello andato bene e poi facciamo una riunione a fine anno dove mi sarà spiegato quello che sarà per il prossimo anno questo è importante veniamo un attimo io come ho impostato l'allenamento la settimana di allenamento il lavoro che faccio io intanto l'obiettivo due obiettivi uno personale e uno per la squadra il mio obiettivo personale è essere sempre motivato cercare di essere sempre al top sempre aggiornato sempre motivato con curiosità invece per la mia squadra io voglio che loro siano sempre in ascesa cioè le squadre giovanili devono andare sempre in ascesa si può anche iniziare male come diceva David Blatt ma è importante come finisci non importa quello che la gente pensa di te quando arrivi è importante quello che pensa quando va via quindi se uno se io prendo una squadra e a settembre gioco e vinco di 30 punti un'altra squadra io non ho merito non ho merito era già così così come quell'altro non hanno colpe perché saremo più forti ma io se con quella squadra ci gioco a maggio allora lì si capisce chi ha lavorato in una certa maniera e chi ha lavorato in un'altra maniera questo è fondamentale questa situazione ieri ho sentito Sergio Scariolo Sergio Scariolo diceva le mie squadre iniziano sempre male sempre male però poi fortunatamente finiscono perché? perché c'è bisogno di costruire se pronti via si vince era già così non è che c'è merito quindi questa è un'altra cosa molto importante che cosa è che fa vincere o perdere una partita? avete presente quando ci sono i break no? i break può essere a vantaggio nostro o anche a svantaggio nostro che lo subiamo noi dobbiamo imparare a far dilatare il break a favore e di restringere più possibile il break contro come è possibile? cercando di creare durante l'allenamento dei cicli di energia immediata cioè delle situazioni in cui te tiri fuori un'energia che gli altri non pensavano fosse possibile in quel momento e questa è una cosa che deve allenare questa energia può venire fuori subito all'inizio del primo parto può venire fuori nel terzo quarto può venire fuori negli ultimi due minuti può venire fuori in qualsiasi dopo un time out ma dobbiamo allenare i trovatori a tirar fuori questa energia come si allena? come si allena con questa situazione? bene si allena per esempio iniziando subito forte allenamento subito forte non c'è bisogno di tante situazioni chiaro che se io in palestra meno tre gradi in quel giornolino inizio forte questa situazione va ma adesso per esempio se si poteva allenare ogni giorno a un certo punto fermando l'allenamento 5 minuti 10 minuti dove uno fa il tiro libero l'altro fa quello e poi ripartire al 300% simulare l'intervallo chiamare time out durante l'allenamento chiamare time out allenare una squadra se l'allenamento dura un'ora e mezzo una volta due volte che dura un'ora e 45 15 minuti sono fortissimi quando fate giocate 5-5 magari un capo allenatore arbitra gli assistenti allenano con i time out dire ai assistenti di provare questa situazione qua queste sono cose molto molto importanti col time out con tutte queste cose qui sono supplementi di sforzo che se però uno è abituato a tirarli fuori in allenamenti gli tira fuori anche in partita ma se uno non è abituato come fa a tirarli fuori in partita ma se uno ha sempre bisogno di 15-20 minuti di tiretti o sì volete pensare che inizia la partita forte non penso allora vi spiego come avevo strutturato gli allenamenti della settimana io avevo allenamento lunedì martedì giovedì venerdì mercoledì è riposo però due volte a settimana facevamo lavoro individuale lavoro individuale extra il lavoro individuale noi lo facevamo in due modi diciamo un'ora per quelli più futuribili e un'ora per chiunque io in un'ora ho avuto 48 ragazzi a fare lavoro individuale perché 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 i più futuribili vanno seguiti ma se un ragazzo che è altro 1,40 m e pesa 90 kg mi dice ma io posso fare il lavoro individuale io perché io vedevo lì no perché io vedevo lì no te non lo fai perché guardi guardi anche le condizioni in sé certo c'è uno spazio anche per loro quindi noi facciamo sempre ci sono degli spazi per i più futuribili e degli spazi per tu chiunque vuol venire chiunque naturalmente si dividano per fasce d'età e compagnia e questo è il lavoro individuale allora il lunedì noi vi dico subito io ho stato molto fortunato in questi anni a Arezzo perché ho sempre avuto dei assistenti in gamba quest'anno ancora più fortunato perché oltre a Marco Tavante ragazzo sveglio c'ho Marco Evangelisti Marco Evangelisti è stato un grande giolatore e diventerà un grandissimo allenatore perché uno capisce le cose subito c'è bisogno di niente quindi io sfrutto lui anche come dimostratore per tante situazioni quindi noi facciamo così il lunedì facciamo 30 minuti di tiro 30 minuti di tiro va bene dove dove il tiro parte da magari all'inizio sarà della didattica poi si curerà d'arresti la tecnica poi sulle situazioni cioè ogni lunedì facciamo un bel programma di 30 minuti di tiro poi facciamo 40 minuti di fondamentali per ruoli ma tutti fanno tutto cioè si giova un po' sbasso si giova in mezzo angolo si giova in lunetta si giova fuori a tre punti a metà campo tutte tutte situazioni e poi si fa 20 minuti ecco in questi 40 minuti fondamentali così ci mettiamo la difesa guidata no? va bene per allenare anche le scelte poi facciamo 20 minuti di uno contro uno e due contro due e poi 15 minuti di tiri liberi finali fatti però in questo modo o che gli dai un che ne so l'allenatore è lì e dice allora sotto di due tre tiri pari un tiro sotto di due due tiri cioè loro devono immaginare quelli sui tiri a partita ti fanno vincere poi persa vinta persa vinta e uno deve tenere le partite ha fatto vincere le partite ha fatto perdere oppure cinque tiri il primo tiro dove prende il ferro a destra il secondo tiro il ferro a sinistra il terzo tiro il ferro in fondo il quarto tiro il ferro davanti il quinto tiro dentro oppure così con sei tiri quindi i quattro ferri più due su due o sette tiri quattro ferri e tre su tre oppure altre situazioni che ce ne è cinquecentomila cinquecentomila oppure tiri liberi con il rimbalzo con il taglia fuori di quello che tira sul rimbalzo se quello segna quello continua a far taglia fuori se no si scambiano naturalmente si sceglie una soluzione una, due in questi quindici minuti e poi si fa avanti il martedì iniziamo i quindici minuti tiri liberi facendo sempre queste soluzioni pariandole e poi facciamo dividiamo due gruppi 45 minuti e 45 minuti un gruppo il preparatore atletico e un gruppo di allenatori secondo me la cosa curiosa è come sono divisi questi gruppi perché questi gruppi una volta li dividiamo quelli più alti e quelli più meno alti la volta dopo li dividiamo quelli più avanti e quelli più indietro e la volta dopo ancora li dividiamo quelli più grassi e quelli più magri perché queste divisioni perché così i ragazzi girano tutti quindi un martedì uno martedì e un martedì e poi si riparte perché girano tutti e perché è più facile individualizzare il lavoro pensate il preparatore atletico quando lavora con magri farà delle cose ma quando lavora con grassi può prevedere che ne so delle navette di recupero può prevedere certe situazioni quando si lavora con quelli più bravi si può fare certe cose con quelli più indietro si può tornare indietro quando si lavora con quelli più alti magari quelli più alti li si possono far giocare fuori quelli più piccoli possono far giocare dentro e tutti ruotano secondo me questa cosa intelligente è facciamo tiro più su situazioni di gioco diciamo e poi facciamo 75 minuti di gioco 55 dove fatti che quando il gioco si fa duro ti devi far trovare perché lì i giochi devono venire fuori vi leggo l'ultima cosa che è diciamo un metodo un metodo una specie di metodo regola che abbiamo fatto noi a Rezio che abbiamo attaccato anche lì sempre nella stanza e dove e l'abbiamo segnato lo stilato ragazzi il primo è allenati come un professionista anche se non lo sei perché non è che dipende da quanto guadagni quando vai in palestra dipende da quanta voglia hai cioè passione voglia non sono tanto acquisibili cioè te li puoi stimolare però ci devono essere subito pensa come un campione se vuoi diventarlo mira sempre a migliorare sforzati di trovare una soluzione in una situazione di fioltà anticipa il gioco del futuro cioè cerca di essere creativo divertiti inventa qualche cosa cerca di padroneggiare meglio possibile i fondamentali impara a riconoscere avversari devi capire cosa fa l'avversario come ti può mettere in difficoltà e come te lo puoi mettere in difficoltà cerca cerca di essere sempre te stesso prendi la decisione le cose che riguardano te prendi te la decisione confrontati ma poi prendi te la decisione cerca di costruirti un corpo da atleta anche extra allenamento parla preparatori puoi venire in palestra trova un'ora in più fai qualcosa in più studia non fare in modo che andando a scuola puoi compromettere con la canestra inizia subito bene anche a scuola cerca di diventare un leader cerca di prendere responsabilità fatti trovare e poi ama la tua maglia portala a un orgoglio guardate ci sono delle situazioni in cui delle società in cui arriva un giocatore già che si mette la maglia quel giocatore più forte noi a Virtus Siena veramente per tanto tempo quando insomma ottenevamo tanti risultati così arrivava un ragazzo nuovo si metteva la maglia si sentiva già più forte questo dovete cercare di far fare cercate di far sì che la maglia sia come un elisir un qualcosa che rende il giocatore più forte io penso di aver detto di aver detto tutto cioè tutto quello che che queste idee queste cose che poi io cerco di mettere in pratica vi dico vi dico anche perché forse avete capito a me mi piace anche citare le situazioni se qualche uno di voi ha visto il film quello come fare De Martian un film dove lui rimane viene lasciato su Marti così il protagonista alla fine quando è tornato sulla terra è così che io morirò allora voi avete due modi o morite o cominciate a risolvere problemi fate calcoli risolvete un problema o un altro o quello ancora e se avete risolto abbastanza problemi alla fine ce la fate ecco quindi ognuno di noi i problemi che aveva fino ad adesso erano leggeri rispetto a questo problema mondiale che c'è adesso però come è passato tutto passa anche questo magari quando si torna in palestra approfittando anche di queste cose riflettendo cercando di essere migliorati da questo punto di vista credo che possiamo dare una mano al movimento perché insomma io ho sentito parlare anche i manager che lavorano in Germania in Francia in Spagna e il settore giovanile è curato in una maniera stratosferica rispetto a quello che è curato in Italia poi si sente dire bisogna ritornare al settore giovanile eh sì però nessuno ci ritorna per il momento speriamo perché io sono fiducioso io vi ringrazio ho parlato un'ora quindi quello che mi ero preposto di parlare adesso se ci sono spazi se c'è qualche domanda rispondo volentieri assolutamente sì Umberto c'è la prima domanda di Emiliano Ferretti che ti chiede con i giocatori che per punizioni scusami con i genitori che per punizioni levano lo sport ai ragazzi perché vanno male a scuola perché a casa non sono discoli eccetera eccetera come si può far capire al genitore che levare la palla a canestro non è proprio la scelta giusta soprattutto nelle piccole società fatte dai genitori perfetto allora due cose la prima cosa io gli dico è ma lei vuole avere problemi con il suo figlio perché se il suo figlio gli piace giocare a basket e lei gli toglie il basket il suo figlio è arrabbiato con lei ma se lei viene da me e mi dice questa cosa e io gli dico guarda che se continui ad andare male a scuola non studiare così io non ti faccio più allenare primo gli do una possibilità secondo sgravo i genitori perché se io non lo faccio più allenare il genitore il ragazzo non è arrabbiato il genitore ma ti dirò di più se il genitore dice non vai più a allenarti dipende dal genitore quando il ragazzo torna quindi ti toglie responsabilità davanti al ragazzo ma se lo decidi te se lo decidi te quando torna allora ti acquisti responsabilità verso il ragazzo e quando un genitore non accetta questo io gli dico lei che il lavoro fa io fai il direttore di banca ma se oppure fai il negoziante ma se viene un cliente e comincia a buttare giù la roba la mette in difficoltà nel suo lavoro lei che fa dice ma raro bene lei mi sta mettendo in difficoltà nel mio lavoro perché il mio lavoro è a palacanestro quindi lei mi sta mettendo in difficoltà si ritorna al discorso della comunicazione cioè devi rompere la distanza ai genitori devi portarli a tutta parte devi far capire quello che dice è giusto poi quello che non capisce c'è in tutti i campi non so se ho risposto credo di sì io invece ho due domande da porti la prima è questa riguarda sempre il rapporto con i genitori e soprattutto se ti è mai capitato di avere i cosiddetti genitori allenatori sulle tribune che danno consigli tecnici e forse principalmente tecnici perché tattici non se ne occupano certo come li hai gestiti e cosa come cosa dice al ragazzo ok questa è la mia prima domanda allora che risponde a questa poi me ne fa un altro chissà allora io mi sembra sia stato il tipo in 95 sia allenato a Castelfiorentino piccola società io sono arrivato a Castelfiorentino era in C2 quando sono andato via era in B2 e abbiamo fatto subito le finali nazionali prima anno che sono arrivato quindi è una cosa molto importante per Castelfiorentino tutti i ragazzi di lì c'era un genitore che era lo sponsor e quando io sono arrivato mi hanno detto subito tutti guarda occhio perché quello rompe le scatole rompe le scatole guarda non hai idea in tribuna il ragazzo gli dice fai questo fai quest'altro tra l'altro il figlio era anche bravo non è che era uno scato gli dice fai questo fai l'altro di sotto e poi allenatore comincia di cambio vediamo io non sono mai preoccupato prima cioè non mi faccio condizionare dalle cose secondo me ecco vi faccio un esempio secondo me quando uno torna entra in un posto non deve arrivare a cambiare di testi te no testi te no io quando sono arrivato prima non ho cambiato niente perché scusa io arrivo e dico te no e gli dice mancomi conosci e te no perché invece entri guardi e parli con le persone vedi quelli che possano venire dalla tua parte che non ci può venire a rivederci l'anno dopo e un po' di niente quindi ti dicevo prima partita io non ero preoccupato prima partita comincia la partita e questo tu Samuele di qui di là di sotto di sotto unca sotto se che mi faceva avvicinare te lo dicevo te lo dicevo vabbè non ti preoccupare finisce la partita non so se qualche numero di massacra di Fiorentino c'è il tunnel e la tribuna e le tribune mentre tutti entrano dentro io vo su in tribuna salgo in tribuna e vo verso questo questo quando mi vede non sapevo un po' gli faccio una domanda scusa perché dalla panchina c'era un fuoco che non sentivo bene mi ridicevo perché non ho capito così magari la prossima volta la prossima volta viene in panchina con me accompagnatore lo fece accompagnatore lo mise in panchina allora primi tempi ogni volta piglio un tecnico una scena più tutta la squadra adesso siamo amicissimi siamo amicissimi anche quando io sono arrivato in tante situazioni mi sono state descritte wow il genitore rompi scancare e ho trovato gente che diceva quel genitore rompi scatole quelli che dicevano rompi scatole sono diventati i miei migliori amici ma no perché io non le ho regalato niente ho discusso diverse volte con questa gente discusso però credo che loro abbiano capito io facevo cercavo di fare bene dei figli e hanno capito io ho capito sono brave persone perché non è che se siamo questa è un'altra cosa di Morgan Butten non è che si può essere in disaccordo senza esserci antipatici cioè non è detto che perché io e te non si non si veda allo stesso modo non ci si deve salutare quindi io ho sempre cercato di diminuire la distanza di portare dalla mia parte di capire perché fa quello e di far capire a lui quello che va fatto tante volte coinvolgendolo di più dentro la squadra ok perfetto grazie ma la seconda domanda è questa tu che tipo di dirigente che dirigente vorresti quali sono le caratteristiche ok di un dirigente tipo diciamo allora per far bene per far andare bene un'organizzazione ci vogliono tre tipi di persone ci vuole il visionario cioè quello che vede al di là quello che ha idee poi ci vuole il dottor no cioè quello che blocca un po' il visionario no di solito il dottor no è quello che gestisce la parte economica e poi ci vogliono le colonne le colonne sono quelle che mettono in pratica quello che che il visionario e il dottor no hanno poi trovato come accordo quindi faccio un esempio quando io sono arrivato a Arezzo io magari ero il visionario il presidente Mauro Castelli era il dottor no che in questo momento è diventato più visionario di me va bene e poi c'erano tutti i dirigenti i segretari il fisioterapisco che era la colonne che ci facevano che ci hanno fatto andare a crescere quando sono arrivato a Virtusiena il visionario io ero una colonna ma il visionario era il presidente era il presidente e il dottor no era il vicepresidente però è fondamentale che il visionario e il dottor no vadano bene perché se uno vuole comprare le broncenze e quell'altro non vuole spendere 5 euro diventa difficile quindi ecco io quando entro in una società cerco sempre di far combaciare queste cose chi ha idee la parte economica e chi mette in pratica secondo me se in una società c'è un accordo su queste tre figure vedrai quella società va bene ok grazie mille per la risposta io darei ancora un paio di minuti per eventuali domande se per te non è un problema io figurati quindi ragazzi se volete far domande come sempre in chat anche di microfono preferisco o anche con il microfono il coach è a vostra disposizione per le risposte faccia a faccia non so se la cosa non so se la cosa di cui ho parlato ha interessato oppure no spero che comunque qualcuno trovi qualche idea per mettersi lì e vedere un po' di tirar fuori qualcosa ecco insomma buongiorno Umberto sono Carlo buongiorno te lo so chi sei Firenze un'altra domanda rispetto all'altra volta dato che ho riascoltato questo tuo intervento ho avuto altri spunti le caratteristiche normalmente si sa che caratteristiche dovrebbe avere un allenatore di mini basket settore giovanile o senior secondo te che peculiarità deve avere proprio un allenatore in queste diverse fasce e categorie proprio diciamo tre peculiarità e tre cose due tre cose che non deve avere grazie intanto se hai sentito prima il finto capo e così quelle cose non devono avere comunque andiamo per gare per quanto riguarda il mini basket la cosa principale è che deve saper fare innamorare bambini a palacanestro perché non tutti i bambini a livello mini basket vengono spontaneamente spesso ce li portano i genitori perché hanno giocato a basket perché il dottorio ha detto di fare attività magari qualche volta nemmeno sanno quindi la prima cosa mini basket bisogna essere bisogna fare innamorare i bambini a palacanestro e bisogna essere capaci nella parte motoria questo è importantissimo non è importante gli istruttori mini basket sappiano insegnare fondamentali benissimo deve essere importante invece a saper formare benissimo la parte motoria quando io parlo di parte motoria parlo di accadamenti di capacità coordinative capacità coordinative generali vabbè che quelle ce l'avrà già ragazzi ma soprattutto quelle speciali deve la mobilità articolare e non tanto le capacità condizionali che poi saranno messe saranno poi allenate successivamente un allenatore diciamo delle prime categorie giovanili deve invece essere bravo a scegliere bene gli obiettivi perché naturalmente le prime categorie giovanili che cosa devono insegnare prima di tutto la responsabilità la responsabilità in difesa sull'uno contro uno in attacco sull'uno contro uno le prime spaziature il fatto di giocare insieme a compagni il fatto di non fermarsi mai perché a me a livello soprattutto prima categoria c'è un ragazzo che vanno avanti e dietro avanti e dietro quando vedo che piglia la palla e si ferma cosa un pochettino quindi però deve conoscere la tecnica soprattutto molto importante e conosce la tecnica tecnica individuale e la tattica individuale quindi insegna le scelte non importa che sia un grande stratega dal punto di vista difensivo offensivo compagnia quando si va più avanti invece ci vogliono persone che completano il ragazzo completano quindi naturalmente poi si comincerà a inserire i blocchi si comincerà a inserire la zona si comincerà a inserire determinate situazioni e quindi si comincerà a fare lavoro individualizzato per ruoli perché ricordatevi una cosa fondamentale quando un giocatore esce dal settore giovanile deve avere una cosa una cosa che sa fare benissimo deve avere una cosa degno di rispetto da parte degli avversari e deve avere una cosa che può colpire un allenatore perché un giocatore sa fare solo una cosa può giocare in bielli chi sa fare discretamente un po' di cose può giocare in serie c forse in serie c quindi questo è molto importante un allenatore di prima squadra secondo me deve io credo che l'allenatore di prima squadra se è superficiale è facile allenare la prima squadra ma se uno invece determinato che cura dettagli non è facile perché gli allenatori bravissimi in prima squadra sono quelli che portano risultati ma fanno crescere anche i giocatori invece spesso si cerca il risultato e non si fa crescere il giocatore perché se non ottiene risultati manda via invece ci sono allenatori che sono bravi a fare tutto il giro quindi cresce migliorare i giocatori e fare come si dice e portare risultati io mi ricordo quando io le poche volte ho allenato la prima squadra io la prima squadra spesso l'ho allenata perché è stato mandato via allenatore erano in difficoltà ultime giornate io mi ricordo una volta ultime c'era Franco Pinotto si feceva con campionati insieme comunque con un bel risultato dall'inizio a Franco Pinotto si mise a fare cosa che ne avevamo fatto e poi c'era Gironi che era un ragazzo molto atletico che mai aveva tirato a tre punti e io la mattina mi mise a fare e gli davano il suo avversario stava distante non ci aveva Pivo Damanio Piorigo era molto bravo ma il nuovo di Gironi era toccava sempre lì e allora a quel punto lì noi ci si mise tutte le mattine a fare lavoro sul tiro Gironi io mi ricordo le ultime partite decisive la salvezza Gironi mi ricordo avvicevano segnò tre canestre a tre punti nell'ultimo minuto e mezzo scombussolando tutto insomma fortunatamente sono andati sempre bene quell'anni lipo ci siamo sempre salvati però ecco non è facile io lì non avevo niente a rischiare mi avevano messo in una situazione disperata e io avevo detto e avevo visto e se no tanto Gironi devi tirare in qualche modo quindi meglio se ti alleni per tirare visto che devi tirare quindi secondo me queste sono le situazioni quello che non deve avere l'allenatore sono un po' le caratteristiche cioè di essere egoista di giudicare e non criticare perché questa è un'altra cosa molto importante cioè io posso criticare un giocatore io guarda questa cosa non si fa così bisogna farla così bisogna farla così guarda non arrivare tardi sei in ritardo io non posso dire sei sempre il solito tanto te questa cosa non la farai mai perché questo è giudicare allora giudicare toglie tutte le motivazioni il giocatore dice allora sei così ma se te critichi e poi dai lo spunto magari il giocatore dice vabbè allora la prossima volta bisogna non mi faccia prendere in questa situazione so se ti ho risposto Carlo sì sì hai colto nel segno giusto per punto per fare un chiarimento sul mini basket oggigiorno si vedono delle società di mini basket dove tendono anche molto a precocizzare ok che parere hai dove già i bambini iniziano avere dei fondamentali tecnici importanti io sono cresciuto con il professor Mondoni io ho preso la tessera di mini basket struttore nazionale nel 1983 e praticamente allora c'era il passaggio al mini basket al basket va bene adesso devo dire che da un punto di vista di come sono strutturate le cose anche Maurizio Cremoni sta facendo un bellissimo lavoro insieme ai suoi collaboratori quindi tutte le volte a sentire diciamo questi clinici mini basket torno sempre via con delle idee io credo che nelle nelle ultime due annate diciamo esordienti e ultima Anna Quilotti lì secondo me si può fare qualcosa qualcosa di tecnico nel senso nel senso cioè io devo sapere tirare in terzo tempo di sinistro di destro anche in secondo tempo anche fa un arresto e tiro non è obbligatorio che faccia un arresto a tre punti cioè ma le prime scelte queste situazioni qui sì che cosa mi mancherà lì mi manca la forza perché chi fa la differenza nei mini basket il ragazzo ha già sviluppato la forza se io voglio vincere tutte le partite dei mini basket Carlo te non segni io faccio un programma di forza vinco tutte le partite dei mini basket poi però dopo non faccio più niente perché non ho lavorato su cose dovevo lavorare quindi si tratta sempre di capire che obiettivi che obiettivi bisogna avere io credo che sicuramente nei primi tre quattro anni è essenziale la parte motoria la parte coordinativa gli ultimi due anni secondo me anche un buon sviluppo della parte tecnica può essere una buona idea grazie 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 Umberto Umberto ancora io una domanda ok io più che altro curiosità ok io volevo chiederti se ci sono stati dei giocatori durante la tua esperienza senior o giovani che ti hanno arricchito sotto l'aspetto personale e tecnico ok e che ricordi con più piacere dunque allora io ricordo mi piacere tutti tutti i ragazzi ho allenato veramente e vi posso garantire che in quasi 40 anni di allenamento forse ragazzi con cui ho discusso forse sono meno di 5 quindi ne ho trovate tanti considerate che negli anni a Virtusiana sono 16 anni più di 100 ragazzi sono passati a noi hanno fatto parte i nazionali giovani e e spesso i ragazzi che sono andati via da noi erano considerati i migliori in quella categoria e guardate quando sono arrivati erano quasi tutti sconosciuti quindi se proprio io devo citare un paio di ragazzi cito quelli che sono rimasti a giocare in Virtusiana in questo momento Gianmarco Leia Federico Bianchi che è il figliolo l'ex presidente di Lega e Gerlando Imbro che sono non voglio che si offendano perché sono bravi giocatori tra virgolette gli scarti perché tutti i velati sono saliti di categoria questi sono rimasti ancora a Siena quindi li vedo e tutte le volte che li vedo mi abbraccia altri due ci sono anche altri tre giocatori in cui sono particolarmente legato ma ripeto sono legato a tutti perché i testitori che va a fare i mondiali per me è una roba eccezionale Roberto Rullo tutti Guariglia chiunque i primi che abbiamo preso Amoni di Viccare e Coronini Amoni di Viccare e Coronini sono i primi ragazzi che abbiamo preso quando noi non eravamo nessuno perché Virtusiana arrivava da da campionati io arrivavo a Castelfiorentino non è che eravamo conosciuti o chissà che loro li volevano diverse società ci hanno dato fiducia sono venuti a noi da lì siamo partiti abbiamo fatto poi come dice Velasco bisogna avere anche fortuna noi subito quell'anno lì facemmo le finali nazionali a Salzo Maggiore con l'annata dei nati 83 io poi c'avevo anche lì 84 perché Amoni di Viccare facemmo la fine faccio un esempio giocavamo contro Mancinelli mi sembra a Milano era giocavamo contro Milano e l'anno andato in chiesa erano veramente si giocava erano veramente sempre io ho visto piccoli Galanda Carlton Myers giocandoci contro quando erano a detti allievi purtroppo adesso il livello è molto calato è molto calato perché non c'è più il seguito che c'era cioè le prime finali che ho fatto allenava Scariolo Messina Crespi insomma è tanta roba ok grazie mille c'è un'altra domanda di Jacopo Vignaroli che ti chiede si sente parlare della possibile istituzione di un campionato primavera Under 22 qual è il tuo pensiero al riguardo lo ritieni utile o è meglio cercare di far giocare quei giovani in campionati senior come magari di livello tipo C-Gold allora io non lo so se il campionato primavera non è che il campionato primavera è una cattiva idea dipende come viene fatto perché se il campionato primavera fosse come la primavera del calcio sarebbe buono è chiaro che manca un campionato vero dagli Under 18 a poi andare in prima squadra una specie di G League chiamatela come volete ma manca però deve essere fatta in una certa maniera io vi faccio un esempio per esempio a Arezzo finiti Under 18 tanti ragazzi vanno a studiare fuori quindi diventerebbe un problema perché il problema lì è che poi che fanno questi ragazzi perché a me tutti vogliono fare i giocatori professionisti quindi che ci sia bisogno di un campionato è assoluto di collegamento è assolutamente vero che però questa possa essere la soluzione non lo so perché poi dipende da come viene da come viene strutturato ecco quindi questo io credo che sarebbe utile secondo me dedicare invece una fascia che possa essere che ne so la CISIL o compagnia bella dove dovrebbero giocare solo Under 22 ecco questa potrebbe essere una cosa ok perfetto Roberto Fossati ha una domanda per te Roby puoi aprire tranquillamente il microfono grazie coach buongiorno mi interessava sapere il suo punto di vista su questa cosa ovvero se in prima squadra io ho due o tre ragazzi che fanno parte stabilmente dei dodici per gli allenamenti della prima squadra pur magari giocando poco la gestione degli allenamenti con il proprio gruppo come la vedi ma dunque dipende sempre dal contesto perché se il contesto è un contesto di alto livello non c'è il problema perché allenano perché chiaramente capisci che nessuno è andato è arrivato a giocare a alto livello se non ha fatto qualche allenamento supplementare quindi questo è chiaro allora secondo me io dico sempre quando allora nel momento in cui diciamo io sono responsabile del settore giovanile nel momento in cui c'è un giovane che va in prima squadra e l'allenatore della prima squadra è diverso diciamo dall'allenatore perché della squadra dove va il giovane io devo sempre far mettere a sedere i due allenatori io mi devo mettere lì insieme a due allenatori e si parla a noi poi dopo si parla il ragazzo e la famiglia e gli si spiega quello è il nostro programma e si sente fin dove i ragazzi e la famiglia si possono spingere perché trovi delle famiglie e dei ragazzi e diranno no no ma noi si fanno tutti e trovi chi ti dice no guarda io ne faccio uno solo allora se ne fai uno solo te con gli allenatori trovi la soluzione però come ti torno a dire bisogna parlare cioè bisogna mettersi lì a cercare abbiamo detto di non di integrare scuola per la canestra e non metterli in conflitto quindi prima si parla con gli allenatori poi si parla con la famiglia e poi si mettono insieme ragazzi e allenatori per fargli giocare poi è chiaro la soluzione dipende dalla voglia del ragazzo dalla volontà della famiglia è chiaro nel momento in cui uno ti dice io faccio un allenamento al giorno e basta ditemi voi se lo faccio a prima squadra di là io dico sempre quanto ti serve in prima squadra perché se ti serve in prima squadra perché si ritorna il discorso di prima perché se io lo lancio allora viene prima la prima squadra secondo me ma se invece serve per riscaldamento così amico io ti dico questo io un anno anche l'anno 2008 2008 io allenavo gli juniori a Siena il quintetto mio i primi cinque mia non l'ho mai visti erano sempre con la prima squadra perché la mia squadra era fatta di 6-7 giocatori io ho allenato i secondi 7-8 per tutto l'anno loro venivano solo a giocare mezz'ora a mezz'ora il lunedì all'allenamento noi siamo andati alle finali nazionali siamo arrivati quarti quarti va bene a Venezia sai per quale motivo perché io non ho mai fatto che sa questa cosa io non gli ho mai detto eh però voi non va allenate mai voi siete sempre no io l'ho sempre cercato di mettili la testa a posto per quando provano a questa parte quindi è fondamentale che i ragazzi che vanno alla prima squadra abbiano la testa a posto non che siano tirati di qua e di là perché se l'allenatore per dilante 18 gli dice eh però voi non ci siete mai l'allenatore della squadra dice ma voi allora siete allenatori questo non deve succedere e prima si mette a posto l'allenatore perché se no si appa la testa a una testa a una e si batte nel buro insieme devono andare a posto queste cose poi si fanno ragazzi e poi si mette in prima squadra però io voglio dire quanti si mettono a far così perché tanti rifuggono i problemi sai quali sono le organizzazioni che vanno bene quelle dove quando uno sbaglia sa che c'è qualcuno che gli va sulla faccia e gli dice guarda questa cosa non si fa guarda mi la fa così invece in tante organizzazioni nessuno dice niente poi dice hai visto quello ho fatto hai visto non si fa in questo modo non conta il livello della tua serie che fai conta il livello della tua organizzazione se puoi essere super organizzato facendo la promozione cercando di far andare le cose meglio possibile cioè la professionalità non dipende da dove alleni o quanto guadagni e così via la professionalità non è la tua cioè ma scusa te se alleni in promozione te frega nulla se alleni in serie A sei professionale no devi essere sempre la stessa persona che non funzionano così perché poi non sei pronto se non ti prepari abbiamo detto non prepararsi prepararsi a fallire ecco quindi io credo che la cosa importante sia parlare sentire e poi in base a quelle che le disponibilità che ti danno scegliere però si va in una squadra questo vale anche a livello giovanile io non porto il meglio 2007 con 2006 se non lo fò giocare se io porto il meglio 2007 con 2006 perché parto in quintetto se no non ce lo porto grazie ecco ok c'è un'altra domanda coach che è questa hai un numero massimo di giocatori da indicare per far buoni allenamenti giovanili e mini basket differenziazioni allora partiamo mini basket di solito i gruppi sono molto numerosi però io devo dire che molto numerosi non è un problema mini basket perché tanto non è che dal punto di vista tecnico devi fare chissà quali correzioni più che altro li devi dal punto di vista motorio quindi secondo me due buoni istruttori noi abbiamo avuto gruppi anche di più 25 25 ragazzi abbiamo gruppi anche così secondo me due buoni istruttori preparati perché siamo preparati prima sanno quanti ragazzi hanno sanno quello che fanno preparati possono benissimo portare avanti un gruppo di più di 20 ragazzi per quanto riguarda il settore giovanile se vuoi sapere quello che penso io io sono un po' il contrario io meno ragazzi di show più sono contento cioè io preferisci fare allenamento in 5 o in 12 in 5 perché mi posso concentrare più su quelli quindi per me non è ma stato un problema quanta gente dice eh ma siamo 6 alle m7 via dai forse treccia no siamo 6 7 ci si impegna di più perché a me mi hanno insegnato che quando le cose sono difficili non dai meno dai di più esattamente di più vi faccio un esempio chiaro che mi ha detto Federico Danna questa cosa quando lui era vice a Torino di Dito Guerrieri c'era D'Oril Dokens a un certo punto Guerrieri ripreso gli venne un infarto e fu rioverato all'ospedale e Danna diventò capo allenatore Daryl Dokens che era famoso per essere un po' indolente il primo allenamento a Danna e disse per rispetto di Guerrieri in ospedale e per rispetto a te che inizi ora io mi impegnerò esattamente il doppio Danna dice siccome si impegnava al 25% si impegnava al 50% però era già tanto il 50% di Dokens coach ti sei bloccato abbiamo dei problemi sono poca gente in palestra mi devo impegnare di più mi devo stimolare di più poi è chiaro 12 giocatori è la cosa però io mi piace molto anche 15 giocatori perché 15 giocatori 15 giocatori per me è molto bello perché io faccio tre quintetti faccio tre quintetti quando li voglio far giocare allora due quintetti giocano l'altro quintetto tre arbitrano e gli altri due uno fa il coach di una squadra e uno fa il coach di un'altra squadra faccio partite tipo di 5 minuti effettivi 6 minuti 4 minuti con time out con i falli e vedessi si divertano di più quelli che allenano e quelli che giocano ok coach credo che sia stata efficace la tua risposta ce n'è un'altra di domanda di Emiliano Ferretti Emiliano puoi aprire il microfono dai Emiliano dai ciao Alberto ciao mi vedi? ti vedo aspetta perché devo non so tanto pratico aspetta fai vedere allora vediamo un attimo non ti vedo ma insomma parla lo stesso va bene senti volevo sapere una domanda un po' anche un po' particolare quanto conta per te la fame nei tuoi assistenti nei dirigenti nel contesto in cui sei cioè la voglia il desiderio di volersi sempre mettere in discussione non sentirti mai arrivati per te quanto è importante questa cosa? io adesso non lo so se qui c'è Marco sono collegati quelli che sono assistenti mi farebbe piacere che loro dicessero quello che pensano perché io a loro veramente non gli regalo niente ma anzi pretendo che siano attenti su tutto però spero anche che loro cioè sono sicuro che loro capiscono che lo fa perché li voglio bene che lo fa perché li vuole far crescere con voi con voi ho considerato una cosa quando io ero a Trentino che allenai due responsazioni per me ho iniziato allenando una squadra di rette regionali parte di Raffaele a Virtusiena con me ho iniziato ad allenare Paolo Moretti alla Menzana ho iniziato ad allenare Simone Panigiani insomma voglio dire io ho sempre avuto la voglia di far crescere cioè di far crescere Giacomo Rossi che adesso da Stella Azzurra va a Bassano e Grappa ha iniziato a fare la tetto stampa mia Virtusiena Luca Brizziarelli è andato a Virtus Bologna è venuto lì a Siena cioè ho sempre cercato di far crescere il contorno deve crescere tutto il contorno ecco quindi quando io vedo se io vedo uno che si impegna e sbaglia per me non è un problema e quando uno per esempio a me a volte capita cerco di farlo ma a volte capita che entro in palestra e c'ho il genitore mi viene a dire una cosa magari a due e mezzo io entro in palestra due e trentacinque ecco se io vedo l'assistente sta lì con le mani in tasca mentre i ragazzi fanno anche le mani ratti su quale due e mezzo inizi l'allenamento non ci sono io inizi te ecco capito cioè voglio che faccia domande voglio che stimoli cerco di curare e mi farebbe piacere se lo dicono anche l'abbigliamento c'è l'abbigliamento da allenatore l'allenatore non va in palestra col calzino e non si vede o con la magliettina l'allenatore va in palestra con la polo va in palestra col pantalone giusto va in palestra con la scarpa giusta no? con la scarpa sembra è importante cioè quando uno entra in una palestra deve dire quell'allenatore no quello chi è ecco su queste cose io cerco perché io sono cresciuto così cerco di farli crescere a questo modo fermo restando che una delle cose importanti è che comunque gli allenatori devono essere in modo netto cioè io adesso sono il primo che scherza o ragazzi che gli fa la battuta che gli manda la selletta però voglio far capire c'è un momento in cui ci si diverte e c'è un momento in cui si fa le cose serie perché se siamo sempre seri non va bene e se sempre ci si diverte cioè i top allenatori guardate se fuori dal basket non parla di vino di mangiare una storia un'altra del quadro della mostra certo certo cioè sempre alla casa sono fissati è questa la situazione ci vuole anche il divertimento l'altra volta senti un po' secco devo dire mi è piaciuto tantissimo dal punto di vista di quello che ha detto ho trovato una persona veramente noi abbiamo in mente ancora il po' secco allenatore era un po' stravagante ma ha detto delle cose super veramente e questo fa capire che comunque quando si passa dall'altra parte della barricata probabilmente ci si rende conto anche degli errori infatti certo fa parte della crescita fa parte anche personale assolutamente condivido tutto condivido Umberto io ti ringrazio ti mando un abbraccio ti mando virtuale per ora e spero di vederti a presto sui campi grazie ok sì sì ciao perfetto coach non ci sono altre domande io ti ringrazio per l'intervento che hai fatto per aver condiviso condiviso con noi le tue esperienze ringrazio tutti i partecipanti auguro a tutti voi a tutti voi un buon primo maggio e un buon rientro e un buon weekend scusate ci vediamo domani buona giornata a tutti ciao grazie grazie